Aiutatemi Voi direte a fare cosa? Aiutatemi a regalarvi la mia morte Amici e ascoltatori, un buon pomeriggio dal vostro inviato a Monaco Robert Crohn Cimie, qui siamo in un cinemateatro, non un ipotropo Si posizionano a pochi metri dal traguardo E si proiettano la mia vita Mentre il numero 7 raggiunge a fatica la linea La nostalgia di Veronica Foss Un film di Rainer Werner fast in Gussi, banionero, schia velvet Gun woosh, zapai, og noero− negita, rumore fu a pellicola− PUNTO, galera uscilla− Scena− Ma alla fine è l'usciata, questo è il pezzo, si entra e si esce, sono solo storie. Applausi! Marianne Katz, neurologa, solo suo appuntamento. Tu sei una multidomani! Ferramica Boss! Puoi stare per morire? Robert mi ama e il suo amore vi salverò. Andiamoci. Sbatti i punti contro di lui. Ecco questa mia sola domani, amico! Ferdi un regista e il tuo farmacista ti attraverso, ti asseconda, ti da la sua infazione. Questo è il tuo ultimo lungometraggio, non chiudere gli occhi, facci un omaggio. Tu non sei il regista, tu sei morto! Sbattia Sbattia Ponda! Chiaverò la polizia e canterò. Dirò che tenete reclusa una donna che la volete ammazzare. La macchina a corre, è una bellissima macchina, una Mercedes, roba di lusso per una morte che si rispetti. Punto esclamativo, trattino, virgolette, punto al capo, punto! C'è così tanta tenerezza nella mia testa, c'è così tanta solitudine nel mio letto, c'è così tanta tenerezza al mondo. Sola, ma con i sonniti, sola con i sonniti, ma che bella idea, Bruce, è che te l'ha detto, è il ruolo che finisce così. Eroina, una vera eroina! Il mio grande ultimo sogno, sono io che ti regalo la mia morte a reguola. Vuol dire che ha diretto anche il suo funerale? Avevi dei dubbi? Almeno quella è stata una commedia. Arriverà anche lui? Lui era vero. E' qualcuno! Maria Brani! Veronica Fossi! Alla sua morte almeno è servita qualcuno, a noi! A noi! A lui! A Donnellon! A Donnellon! Grazie a tutti